Per Paolo Righi, presidente nazionale della FIAIP, Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, bisogna far ripartire il settore immobiliare per uscire dalla crisi. Alla manifestazione nazionale della FIAIP a Roma, se riparte l'immobiliare riparte l'Italia, giù le mani dal mattone, Righi ha spiegato. Il nostro è un paese che non ha un progetto sulla casa, lo si vede tutti i giorni, sia per l'edilizia popolare che per l'edilizia privata. Oggi qui sono riuniti tutti i presidenti di tutte le associazioni, si è rappresentata tutta la filiera perché dove non arriva la politica cerchiamo di arrivarci noi come associazioni con un impegno sociale, civile, per fare ripartire finalmente questo paese. Quali sono le proposte di FIAIP? Ne abbiamo varie, ne abbiamo 11 di proposte in un manifesto che abbiamo presentato anche tempo fa. Ad esempio sull'edilizia agevolata noi diciamo che l'emergenza abitativa è stata la scusa negli anni per favorire qualche politico e per prendere qualche tangente. Ad esempio l'edilizia agevolata, le case oggi in Italia ci sono, abbiamo un milione di abitazioni in vendute, quindi sarà bene che le amministrazioni invece di sprecare territorio, di costruire nuove abitazioni, ricorrano all'edilizia privata per inserirle nel circuito dell'edilizia popolare. Sull'elevata tassazione sulla casa e sulla giungla di tasse degli ultimi anni Righi ha aggiunto. Sono quattro anni che gli investitori non riescono a capire, i cittadini non riescono a capire cosa devono pagare. Si immagini noi che lavoriamo anche con investitori esteri spiegare la tassazione italiana a un cinese, a una delegazione cinese o giapponese. Noi non stiamo attraendo nessun tipo di investimento estero proprio perché non è redditizio per l'alta tassazione ma anche per una burocrazia, una poca chiarezza del diritto che in Italia riscontriamo tutti i giorni.